Il Festival del Cinema di Roma, la festa più alla moda del momento che sbarca anche nei luoghi della sofferenza. È il caso della bella iniziativa che ha avuto il merito di unire i piani alti della cultura alle periferie della città e della sua anima. Così la festa che accoglie Tom Hanks, Mary Strip e David Mamet allarga i suoi orizzonti ed entra in una sede molto particolare, non all'auditorium né in una delle tante sale collegate alla festa, ma presso la Casa di Cura per Malati di AIDS, gestita dalla Caritas a Roma, che si trova a Villa Glory, proprio a pochi metri dall'auditorium. Qui perché Villa Glory è una realtà che è oramai quasi trentennale, dove ci sono delle case famiglie che ospitano i malati di AIDS. È una struttura che ha voluto Don Luigi Di Liegro, l'ha voluta fortemente come segno di un'attenzione a coloro che avevano questa malattia ed erano nel bisogno. È stata una scelta proposta dalla Casa di Cura e subito accolta dal direttore artistico Antonio Monda, che ha voluto che un evento tra i tanti della festa si svolgesse in questo luogo così vicino e così lontano dai riflettori e dal glamour. Il pubblico ha reagito molto molto bene a questa iniziativa, l'ha sposata in pieno e ci ha messo nelle condizioni ideali per organizzarla e per immaginare anche nel futuro, magari nella prossima edizione, di organizzare non solo un evento specifico, un evento singolo, ma una vera e propria rassegna. Il film scelto per la proiezione è stata una commedia molto divertente, Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks con Gene Wilder, il grande attore recentemente scomparso.